del Capricorno, per voi cari Capricorni ancora una luna piuttosto complicata nel segno del cancro questa è una luna che vi renderà un po' troppo eccentrici nel rapporto con gli altri tanto che le persone che avrete di fronte stenteranno un pochettino a capirvi, a comprendervi come voi che siete figli di Saturno, quindi che rispettate le regole e che avete un grande senso del dovere e invece oggi fate l'esatto contrario, ma perché in questa giornata voi avrete bisogno anche un pochettino di rompere gli schemi bella questa luna per il rapporto di coppia, soprattutto in serata andiamo al segno dell'acquario